Martedì 31 dicembre, per il Capodanno 2013-2014, il Comune della Spezia presso Piazza Bebenini presenta il concerto del fenomeno rap più acclamato d'Italia. Emi Schilla, inizio concerto ore 22.30 e a seguire il DJ Electro Brothers, Gabriele Sposto e la voce di MC Replay. L'ingresso è gratuito, vivi l'ultima notte dell'anno alla Spezia.